Musica 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 Come già sape, il nostro corso alunino escono i 10 giorni della cultura alunino e questo è il secondo giorno e l'ultima sera sera la prima La prima è stata una impressione linguistica e a presentare la nostra eroina di questa noita la signora Laura Eroina tragica Buongiorno, signor Boroiano. Buongiorno, signor Boroiano. Buongiorno, signor Boroiano. Buongiorno, signor Boroiano, signor Boroiano. Buongiorno, 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 signor Boroiano. a mio avviso, ovviamente, e io accepto delle idee contrarre, s'il vi è, è di ricreare un altro mondo, e là di rêveri, e probabilmente quando ho trovato un mot di mettere a presso la creazione di rêveri, e ho trovato questo in un'esthiette del XIXe secolo, Sodeur de Bambi, che è stato un tipo straordinario e che ha trasformato un po' la capacità poética in una capacità esthetica di primo ordine, in dicendo che l'oeuvre poética è un'oeuvre funambulesca, in questo senso del termo, che è stato inventato da Sodeur di Bambi, quindi non può cambiare il senso di mer, a mio avviso la creazione di Laura Kovac, è una creazione di rêveri funambulesca. Che cosa ci propone? Ci racconta, d'ailleurs, ci ci propone. Ci racconta un'altra irrealità, in un'altra realtà, in un'altra realtà che è spirituola, non religiosa, ma esotica in ogni modo. Ci racconta un'altra realtà, di vedere altrimenti la vita, le donne, e in un'altra realtà di un senso profondo di l'umanità. Con una maniera che comincia con l'excepcionale maggiore del pincello, al principio, a una maniera flamanda, tutto a fatto ben comprise e ben maîtrisata. In un mondo che è tutto a fatto virtuale, che è il mondo dell'ordinatore, che è manipulato, ma in un momento, gli abbrano le porte di un'univers che è tutto a fatto speciale. Ci sono troppo di artisti che possono fare cose parecchie, non in una maniera, perché è in un modo che è una maniera. Ma in un momento, di comprendere bene cosa che può diventare il digitale. Ma in un momento, il digitale è pieno di poveri cons, che fanno delle piccole cose a merdere, quindi che ne servono a nulla. Ci sono alcuni dei artisti molto importanti che hanno riuscito a comprare che con loro maittrici che, non, in un mondo che potesse, ma potesse, che potesse leggere, in questo mondo virtuale dell'ordinatore, un mondo fabuleuxo dal punto di vista tecnico e non solo. Quindi, quello che avevo a dire, in generale, come ho detto, io credo che sei una cosa di un artista molto raro e speciale e io vi ho aperto un po' la porta di questa creazione ovviamente da mia maniera quindi dopo entrivi voi stesso nella expozione e ogni opinione sarà la migliore grazie buona notte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Presidente del Ministro Cultural Romano la Sra. Erado Borroiano la Sra. Embaixadora della Romania in Portugal la Sra. Vasili Popovic la Sra. Direzione del Instituto Cultural Romano il Sra. Daniel Nicolescu Tenho che leggere la mia cabola, perché se non potrei confondire i nomi. È un grande desafio, questo che mi fu proposto, per arrivare a presentare la obra di Laura Kovacs. No inizio, confesso che esitei molto, ma, per l'altro lato, io gosto di raccontare storie, gosto di leggere storie, e, portanto, quando vi la obra, e già conosci un po' la obra della artista, senti che devia sair un po' da mia zona di conforto, che è il espaço della ceramica, e tentare trovare in questo mondo alcuna logica e contare questa narrativa. E, portanto, tentei organizare questo mondo di sogno, come fu narrato, in 4 aspetti che i passi a fare la presentazione, ma, prima, se io dire due o tre parole, sulle a propria artista. Laura Kovacs ha un percorso molto speciale, che sta descritto nella propria brochura che accompagna la exposizione, non li ho amassare ripetendo quello che potrebbero avere accesso. È una artista che già ha fatto exposizione in diversi paesi, in Europa e negli Stati Uniti. Aproveito per dire che, nel prossimo outono, la sua obra sarà presentata nei Stati Uniti, in una importante galleria di arte, che mostra chiaramente il percorso e il apprezzo che la sua obra ha. E, come si è in 2011, a lavorare in questa arte digital. Come si è in una esperienza, prima, con la creazione di una persona, Luna e, a partir di questa esperienza, è stata, come la propria dice, è stata stata la volontà di creare a questa arte. E questa arte, come potete vedere, è una arte molto più complexa che a mera rappresentazione che qui vediamo. Un momento. Ela parte da propria... Ela inizia il suo lavoro modelando nel computatore e, attraverso di una massa informe, la transferta questa massa e va modelando, portanto passa di un tablet per il proprio computatore, dove va pintando, modelando e recriando questi personaggi. recriando questi personaggi che non sono... Poderiamo essere tentati a vedere in stas figuras femmini, per esempio, meras bonecas, portanto, formas di plástico, ma sono molto più di questo. Se olharem con attenzione, veranno che a pelle destas personaggi è una pelle real. È una pelle che la propria autora fotografa, transfere per il computatore e dà vita e dà plasticità come se questi personaggi fossero, e sono, di fatto, la propria metamorfosiata nestas immagini. Non, per acaso, tutte le pinture sono hai e un numero. Hai, io e un numero. E, portanto, è neste percorso che iriamos a fare, attraverso questa divisione, che è la mia divisione, è la mia leitura di questa obra, ovviamente che è sempre una obra aberta e cada uno sarà, dopo, capaz di construir il suo proprio percorso. Portanto, per la mia leitura, per la mia interpretazione, dividi la exposizione in 4 núcleos essenziali. Un nucleo che funziona per il mito, un secondo nucleo che funziona per la narrativa dei conti di fadas, che è un aspetto che che a propria autora também trabalha, un altro mito che funziona per la fotografia e, per fin, o desenho. E è attraverso di questo percorso che iriamos a fare. Antes di dare inizio, io vorrei di chiamare la attenzione per una certa tendenza. Laura trabalha archetipos, e non deixa di essere interessante per noi portuguesi, percibere che il nome Kovac è una forma húngara da palavra slava, io spero di dire certo, Kovac, Kovac, che significa ferreiro o aquele che trabalha na forja. E, portanto, também è interessante vermo come este nome, che è una alcunha, perché disse a propria autora che il nome originale era Lupo, lobo, portanto, non deixa di essere interessante come i due nomi sono quasi archetipi. Lupo è la persona dei conti di fadas. Kovac, come autora, che da sua forja mental, da sua propria immaginazione, va creare queste espressioni. E, portanto, iria convidare a tutti, non sape molto bene come vanno funzionare, ma vanno tentare percorrere l'espasso e verem la forma, la storia che io consigo contare observando queste cose. Provavelmente non hanno a ver con quello che autora quis creare, ma è il mio contributo. E, portanto, iremo iniziare. a parlare in inglese, portugese, sorry, perché abbiamo molti persone in inglese, quindi, ho provato a parlare in inglese. Ok. So, the first images, for me, are these two. And these two can be understood as myth. And, the first image for this exhibition would be, of course, this one. Because, we have the trinity, the goddess, like a goddess of magic, Hekat, the Greek goddess of magic, a goddess of woman, and, she's, discarding, the reality. We have here, an image, of a girl, that is, shred. And, we see, what is, the reality, behind, this illusion, that is, our reality. And, it's something that, Laura, is always trying to achieve. To go, surpass, the reality, that we perceive, and to go, to other realities. so, I think, this is, the most iconic image, of this exhibition. And, so, for me, is the first one, of these images. The other one, of course, is this one. We understand, immediately, the idea, of a goddess mother, from the ancient, Greece, to, all the ancient civilizations, until, our civilization, with the, Mary, the, mother, of Christ. And, we have this, strange image, of a mother goddess, with all these figurines. And, it's a strange goddess, because, it's like, more Medusa, more, a Kali goddess, than, a peaceful goddess, that we have. So, it's, I don't know, if I can say this, if it's too strong, a castrate goddess, a more dangerous, mother goddess. But so, for me, these are, the most iconic, and most, related to myth. And so, because myth, the narration of myth, is closed, doesn't allow us, too much, to imagination, as we can see, in, fairy tales. Fairy tales, allow us more. And, these images, in Portuguese, we can, okay, I don't have much voice, but I will try. So, we have, we can make here, three narratives. We have, in Portuguese, we'd be, we'd sound it better, but, we have, a sorrow story, a bright story, and, a Victorian story, a Victoriana story. So, the sorrow story, will be, the paintings, with that figurine. That figurine, that is always, crying, a little. So, be, related to that figurine, and we can tell, something about her. Look, at, that red, elements, that are related, to porcelain. We have, a Chinese motif, that is, translated, like, how do you say it, in, a tattoo, yes. That is translated, thank you, in that image. So, we have a more, dark story, that can be told, by that, girl, that is, a facet, of Laura, more, how can I say, more, rebel, more rebel, more rebel, image, and we have, this more bright, story, with the same, image of Laura, here, with almost, a tattoo image, again, and, with this, creation, more, bright, with light, like, a, stained glass window, and, that bright, image, can be seen, not in a real, painting, but in an image, that is, transmitted, by, by light. So, this is a more, light story, like, we are, invited, to see, another world, another, universe, that is not, real to us, but is, here, transmitted, by light. And then, we have, the, Victorian, as I, story. This is, an interesting, set, of, four paintings, and, you can, also, see, that, in the paintings, of Laura, there are, elements, that are, always, present. I asked, the artist, why, she makes, this motive, this, spiked motive. She told me, that these, are, UFOs, so, they are, spaceships, to, take you, from this reality, to the future. So, this is the meaning, for her, of this image. and so, it's interesting, to see, that, those girls, in the bright story, they have grapes. But, this girl, in fact, the, the, fruits, are, UFOs, to eat, and go, to escape, by dream. And so, reality, shatters, as the moment, as she's, eating this. And we can see, also, and that's why, I think, these, are more, Victorian related. These images, with, that, the artist relates, using, photography, real photography. And we, can see this, in Victorian photography, these phantom images, the obsession, with the phantoms, we have in 19th century. And we have, almost this, possessed figure. At the same time, we have, a portrait, of a family, here, that we can be, see, in another, element. But, in fact, if we are, in some present, of course, this present, it's not, our present, but it's, some present. And, we are trying to escape, to the future, as this little girl, is trying to escape, and is trying to relate, to someone, in the future. But, this future, is also made, from the past. Because, if you look closely, we have, in our, image, in our, in, in, conscient, the collective, in conscient, images, from the Renaissance. You know, Jean Fouquet, che crea Dianne de Poitiers. C'è un'immagine iconica di Dianne de Poitiers, la favorevole di Frances I, King di Francia, e è molto relato a questa immagine. Quindi abbiamo un motifo renaissance che è tradizionato al futuro e è anche parte di questa ragazza nel presente della pittura. Quindi abbiamo questi motifs che stanno cercando di ricollegare. E' un altro elemento che è interessante, e questo è quello che alcune persone chiamano questo un pittura realistico, è la presenza, a volte, di clocki. E ho chiesto al artista perché, in le clocki, le giorni sono sempre 6 e 10. Non sapeva di perché, ma poi si stava a pensare e ha detto perché sempre ando a casa a 6.00. e probabilmente a 6.00 a 10.00 mi sono ormai, quindi questi sono i prodotti dei miei ormai. Quindi probabilmente è la persona che può raccontare a questo. Ma è stata molto sorpreso perché non pensava di perché 6.00 e 10.00. Quindi probabilmente è un significato per questo pittura. Quindi abbiamo qui, ancora, l'exito. La realtà è scattata e le persone stanno cercando a questo futuro, usando UFO's oltre oltre la fabrica della realtà. La realtà è molto più grande. La immagine di porcellane, la modellazione di città. Come ho detto, mi ha detto, che si modelli prima quando fa fare questo pittura. La immagine di città, in città, nel computer. e poi si trasmette a un altro computer per usare il brush e per creare il resto. In fact, questa è una composizione di 3 momenti. Modellazione, in computer, painting, e composition. Quindi abbiamo, di nuovo, la storia brillante. Abbiamo questi figuri, molto rilassati, di ragazzi. Abbiamo l'immagine che è solo trasmissata da luce. Abbiamo luce che viene dall'altra parte di questa immagine. In fact, un altro motivo che è interessante, perché ho cercato di capire chi erano queste ragazze, e lei ha detto che è interessante perché l'ultima settimana vi ho visto un peccato antico di me, e lei mi ha mostrato il peccato. È un peccato, non un peccato, è un peccato. È un peccato come un peccato XIX secolo. È un peccato, non lo so in inglese, è un peccato, una piccata, un peccato, un peccato, scocato, un peccato. È un peccato fatto che non sia mai capiscato, così è interessante vedere quella relazione dalla situazione. e poi abbiamo questa storia di Soro, una storia più drammatica, con queste immagini di quella più rebeldia, in fact, non so se stia pensare che le persone sempre hanno una buona mano, quindi abbiamo qui una very drammatica immagine, e questo è l'ultimo di questa composizione, quindi non so se stia relato a questo, quindi non so se stia relato a questo, e questo è l'utilizzo di una renaissance painting che si aggiunge a questa realtà, che è, in fact, una composizione per il futuro. La only painting che ha, che sono reale, painting in un senso che sono peccati a canvassare, perché tutto questo è un painting, ma in un altro senso, sono questi due, e questa composizione è, in fact, una composizione che cercava di rappresentare il pasto e il futuro, e siamo in between. In il pasto abbiamo un'immagine di un animale, e in il futuro abbiamo una composizione quasi meccanica, e siamo in between. The only thing that everlasts are the human creations, so the dolls are the only thing that can everlast in these compositions. In here we see a composition that is made using real photographs, ancient photographs, where the artist tried to create her family, not a real family, but her fictious family. So, she uses the images and creates the past, the present, and the future, so the figures of the future that are related. Sometimes, in the present, the children can play with robots, in the future, probably the robots will play with the children. So, we have here the inversion of the speech, so we have, in fact, a manipulation of reality here, with real photographs. If these images are not real, they are children of Laura, because she uses her skin to create these creatures, in fact, in fact, here are real people that are transported and are recreated in these compositions. And to end the tour, and to end the approach to her work, we have here the drawings. So, this kind of composition also, for me, is related to fairy tales. There is a creation, a literary creation, that says that all the toys that civilization creates, that are destroyed, go to their heaven. And so, that heaven of toys is called Discardia. So, all that are discarded. So, these pictures, these drawings of Laura, seem almost like a look at this Discardia, this paradise of rejected creations. Once loved, and then forgotten, that have a real life, in this kind of place. Some of them are without form, they lost their form, because of all the trouble. I mean, they're all beautiful. I love Johnny. Okay, thank you. I almost don't have that. So, some of them are destroyed by us, by our way of dealing with what we love. We always destroy what we love. And so, these toys, these discarded toys, are like this, in this paradise. They are, in fact, what we destroyed with our love, and we forgot the moment we destroyed. So, it's this kind of nostalgia, like the Dürer melancholia, and this concern about time, future, past, and what's our place in between all these concerns, that, I think, are a reflection of Laura in our work. So, I read it. Bye, Tim. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So... Thank you.